Atris Quartè Quintè riservata a tre anni di minima sul miglio, otto in prima, sei in seconda, in quattordici. Vi ha anche un rapporto di scuderia, quattro, nove, totalizzatore molto aperto, quindi quote succose. Sicuramente per chi indovina, sono una minima di tre anni sul miglio, l'ultima del convegno, e mezzo meccanico in movimento. Prossima riunione, mercoledì 22, galoppano i venerdì e domenica. Arretrato il 5 di Veronica Jet, anche il 6 di Versilia Lewis, che poi galoppa anche il 4, via la macchina, e si lotta per il comando. A largo di tutti, Vervet Jet impegna Vinicius per il comando, poi Vaduz Kampf, cavalli che affrontano la piegata, sta passando dopo 200 in 13 e mezzo il buongallo, con il suo Jet diventa leader al completamento della piegata. Ligor Font, targato Jet, quindi a fare andatura. Si completa un quarto frizzante per la categoria, 29 e 4, e ora può un po' ridurre l'andatura, in terza posizione Vaduz, per linee esterne Velvet Line, nelle prime posizioni anche Forino, con vento LL. Si completano i 600 iniziali, in 44 e 7, fuoricorsa il 6 e il 4, cavalli che affrontano la piegata. Si è formata una seconda fila a largo, con il buongallo sempre a fare andatura, e completa il mezzo miglio in 1 e 1 meno qualcosa. Si viaggia da 1 e 16. Penultimo rettilineo, ha problemi Vicco Torideni-Griff che tentava di andare a largo, il chilometro se ne va in 16 e mezzo, e arrivano un po' i ritardatari, c'è anche Maisto con il suo allievo Walzer Spin, che viene via deciso a largo di tutti. Cavalli sulla curva finale, è passato intanto Veronica Jet, numero 5, con il buon Palomba, Maisto fa gli straordinari con il suo Walzer, retta d'arrivo, Veronica tenta lo stacco, Veronica al comando, ci prova Walzer, Walzer è incisivo, sta passando Walzer, poi il 2 di Vinutius, Cavalli in zona traguardo, Blue Jeans, guidata da par sua, vinse con Walzer Spin, per la gioia dello zio di Manini Dolci, zio Antonio, che cura lui questo Walzer Spin, che paga ora con Maisto, era una bella quota da giocare, addirittura 10 euro in chiusura, 10,5 per il terzo, vedete il 2, andiamo un po' più avanti, 10,5,2, per il terzo e il quarto, vediamo un pochettino per essere precisi, l'1 di Baduz Kampf e per il quinto il 13 di Vitesse Mabel. Grazie per l'attenzione, apprezzatissima questa guidata di Peppe Maisto, con questo Walzer Spin, cavallo sempre annunciato e stasera ligio agli ordini di Giuseppe Pietro Maisto. è tutto, grazie per l'attenzione, 1,15,7 il tempo al chilometro, ci risentiamo in settimana, saluti a Valerio, Emilio e anche a Migliaccio dallo studio centrale, Luigi. Grazie a tutti.